è fuggito dalle catene si è liberato si è liberato ma è la suocera di chi questo? va bene è piccolo è un falchetto va bene è stato uno scherzo il falco più piccolo al mondo ed è Trinni è come un falco pellegrino perfetto piccolissimo un gheppio americano bellissimo in realtà è la stessa forma da fare paura ha la stessa forma ma non c'è bisogno, non c'è bisogno, non c'è bisogno non c'è bisogno, non c'è bisogno